Fributo anche te, stai attento Tu sei nel mirino eh Un disastro, tu Branza è live Cosa? Vuol dire Che mi sta dando una mano lui e non voi Quindi ottimo Guarda che io nello scorso episodio ti ho aiutato un botto Adesso dovresti essere qui ad aiutare me Questo era Questo mi ricordo, questo era quando io alle medie Con i miei due amici Venivamo gancati da tre tipe fichissime Che ci chiedevano di andare a casa loro a fare un pigiama party Ecco poi come ci saremmo ritrovati Dopo tre minuti e mezzo io e i miei amici Eccolo qui Ehi sì, beccati questa sfera Genkidama con Goku Ma è una restream Ma com'è una restream Ragazzi ma è una restream Best of Riguardiamo i video No raga ma non è una restream Ma c'ha 40 spettatori Ma che è? Ma è morto Ma che gli è successo? È un video di Youtube Restrizioni Best of Z serie da restrizioni ormai Cioè lui ha messo come codice sorgente Della sua stream un video di Youtube Addio Sta restreammando un video all'infinito Da tre ore Ma questo uomo mi deve C'è il messaggio pinnato Sì ma attenzione Perché allora qui Io ho la fortuna Di farvi finalmente vedere una cosa Notare una cosa Come funziona Twitch? Tu Beranza quanti spettatori fa? Fa 600 spettatori Se tu invece restreammi E metti Giustamente perché se no sei bannabile Metti la La spunta dove dici a Twitch Che stai restreammando Ti fa fare questi spettatori Letteralmente ti leva Ti dà un decimo degli spettatori che fai Se no sarebbe sbroccato Indovinate questa cosa Chi non la fa Mira Twitch Che è in live Sarà in live da almeno 30 ore Con una restream E non mette Ecco questa Enjoy rerun Questa è una rerun Lei non dice che è una rerun Non spunta nulla E fa gli spettatori Che farebbe il canale Se andassi in live Senza fare rerun Intanto Voi preferite un orso A un uomo nel bosco? Ma non mi fate mai trovare Con un macete Dentro la stessa stanza Di questa ragazza Se no ovviamente Lo butterei via E le farei la cena Ci mancherebbe altro Reporta La reporto due volte al giorno Io per due volte al giorno Reporto questo canale Ma intanto non va giù Non va giù In nessun modo È allucinante questa roba Ehm Grazie a tutti